E what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherini in questa nuovissima reaction Ebbene ragazzi eccoci qua di nuovo per guardare insieme un altro dei trailer che sono stati mostrati durante appunto l'ultimo state of play Quindi quest'oggi andremo a guardare insieme l'official combat reveal trailer di Silent Hill 2 remake Un giocone ragazzi giocone che secondo me è atteso veramente da tantissimi videogiocatori quando era stato annunciato ragazzi c'è stato il delirio letteralmente il delirio E capisco perché perché io non avevo mai giocato Silent Hill 2 ragazzi quando usci su PS2 anche perché all'epoca non ero fan dei giochi horror Poi per fortuna sono cresciuta mi sono potuta regalare altre esperienze videoludiche anche se più spaventose tipo questa Infatti ho giocato Silent Hill 2 ragazzi in live sul sito Viola Mi sono voluta veramente appieno questa esperienza videoludica Un gioco che si vuole spaventare ma che secondo me è un messaggio veramente molto più profondo dietro E voi sapete quanto io ami queste cose in un videogioco Quindi un gioco che non solo riesce a farti paura perché devo dire ragazzi ci sono stati tanti momenti in cui io avevo un'ansia assurda addosso Ma dopo tutto alla fine è Silent Hill ma è in grado appunto anche di farti tanto riflettere Quindi quello che alla fine si scopre ragazzi nel gioco mi ha sconvolto letteralmente Cioè io quando ho finito Silent Hill 2 sono rimasta veramente del tipo what the fuck che cosa ho appena giocato Veramente un giocone con la G maiuscola Quindi ovviamente tutti i videogiocatori che amano questo giocone Sperano che questo remake sia degno del suo parente originale se lo vogliamo chiamare così E quindi io sono molto molto impaziente anche se effettivamente questo trailer dura soltanto un minuto e 34 E tra l'altro evidentemente serve solo ed esclusivamente a farci vedere un attimino come funzionerà il sistema di combattimento in Silent Hill Da quello che ricordo io ragazzi si potevano appunto avere armi tipo pistola o comunque utilizzare anche altre armi corpo a corpo Se non sbaglio mi perdonerete se non ricordo benissimo tutto ragazzi ma l'ho giocato soltanto una volta Quindi penso proprio che prenderò anche io al lancio questo gioco Non so per quale motivo io non mi sono informata ragazzi su niente ma mi sembra di aver letto un pochettino in giro sui social Che qualcuno si stesse lamentando per qualche motivo cosa che non mi stupisce perché tanto ragazzi Oggigiorno anche se ti mostrano non lo so la cosa più bella e meravigliosa del mondo Ovviamente ci deve essere qualcuno che va a fare le pulce al cane a trovare anche il più piccolo Quello che magari potrebbe essere il più piccolo difetto del mondo pur di starsi a lamentare Una cosa che non mi stupisce infatti io non mi voglio fare minimamente influenzare da questa cosa Pensare oddio chissà che cosa mai avranno cannato in questo trailer sinceramente non me ne frega una mazza Perché tanto la gente oggigiorno ragazzi è buona soltanto a sparlare Buona soltanto a lamentarsi ovviamente Tra l'altro a maggior ragione su giochi su cose che non sono neanche uscite Quindi non le hanno manco giocate personalmente quindi dico io no come al solito ragazzi Ma aspettate ma giocatele prima le cose Se poi ritenete che qualcosa sia possa essere considerato un difetto va benissimo Però tra l'altro sono pareri che neanche nessuno ha chiesto ragazzi Quindi giusto per questa affa insomma muove le ditine sulle maledette tastiere Comunque a parte tutto ragazzi bando alle cianci a questi discorsi di cui non ce ne frega una bene amata mazza Direi di andare a guardare insieme il trailer Direi di andare a guardare insieme il trailer Direi di andare in Ok Allora Trailer proprio cotto e mangiato Tra l'altro ragazzi fra un attimo guarderemo anche quello di questo Silent Hill The Shorn Message Quindi tra un po' guarderemo anche quello perché sono comunque curiosa Che dire Allora è vero che comunque ragazzi a fine trailer dice che appunto è in sviluppo Quindi secondo me quello che ci hanno fatto vedere magari è ancora molto primordiale diciamo così Perché insomma per essere girato ragazzi su PS5 non dico che la grafica mi sembra un pochettino semplice Passatemi il termine tra molte virgolette Ma penso ragazzi che su PS5 abbiamo visto sicuramente prodotti che abbiano una grafica nettamente superiore A questo che vediamo insomma a quello che vediamo in questo trailer Però sinceramente io personalmente ragazzi all'aspetto grafico do e non do importanza Quindi sapete che non mi interessa quello Pensavo che forse quello di cui si è potuta lamentare a gente era questo sinceramente Non lo so Per quanto riguarda quindi ragazzi i mostri perché ovviamente ci hanno tenuto anche a mostrarci i mostri A mostrarci comunque luoghi che dovrebbero essere appunto riconoscibilissimi Ovviamente a chi conosce il gioco nonostante io l'abbia giocato solo una volta Diversi luoghi li ho riconosciuti E ci hanno fatto insomma vedere anche che appunto l'aspetto degli enigmi non mancherà Ma mi pare ovvio perché comunque era una cosa fondamentale no? Nel gioco originale Quindi essendo un remake ragazzi ovviamente le cose fondamentali non le potevano eliminare in alcun modo Poi questo lo valuterà anche chi è proprio ragazzi fanatico del gioco Magari si accorgerà anche della carta spostata per terra Di no questo non era così Però per quanto riguarda i mostri Per quanto riguarda i mostri ragazzi Vabbè ci sono le infermiere Ci sono questi cosi che sembrano avere gambe sopra e sotto E questi altri che sono un blocco unico che pare che vomitino l'anima Che sinceramente io non ricordo se ci sono nel gioco originale Ma penso che probabilmente sì ci fossero E quindi ci hanno fatto vedere ragazzi il sistema di combattimento come comunque c'era Nel gioco originale con le mazze Con la pistola Col fucile Ho visto due tipi di fucili mi sembra di aver visto Quindi cioè voglio dire E ragazzi ci hanno mostrato Quello che è giusto che sia fondamentalmente Come era nel gioco originale Io adesso non so di cosa si sia lamentata la gente Ripeto l'unica cosa che mi viene in mente È questa questione qua dell'aspetto grafico Perché purtroppo è la prima cosa che ovviamente salta all'occhio ragazzi Mi è saltata all'occhio anche a me Che solitamente appunto al lato grafico non do tanto peso Magari se voi ne sapete di più ragazzi Sulle lamentele che girano sul web Me lo farete sapere qua sotto nei commenti E quindi direi ragazzi adesso Di dare uno sguardo a questo trailer Di Silent Hill The Short Message Che è un gioco Se lo vogliamo chiamare gioco Sarà più insomma Un'avventura molto veloce Perché mi sembra di aver capito che duri poco più di un'ora e mezza O più o meno un'oretta e mezza Quindi è giusto Penso una sorta di assaggino Di non so che cosa Che è stato messo gratuitamente Sullo store Per chiunque Quindi non solo per chi è il plus Ma veramente per chiunque E infatti Io ho sentita Letta questa cosa L'ho scaricato Non ho guardato il trailer Perché lo volevo guardare insieme a voi E vi ho chiesto anche ragazzi Su Instagram Se magari vi sarebbe piaciuta l'idea Che io ci facessi un gameplay Ovviamente Tipo Il 99% di voi Di tutti quelli che hanno risposto Mi hanno risposto Di sì Quindi suppongo proprio Che mi toccherà farci Uno o due gameplay Non so quanti ne serviranno Tanto Comunque Io il gioco L'ho scaricato Quindi andiamo a vedere Insieme a questo trailer Vediamo di che si tratta E in più nessuno Ok Molto bene Oh Dio no Oddio anche no grazie Oddio Oh Dio no grazie Oh Dio no grazie Davvero fantastico Davvero fantastico Devo dire L'idea di propormi di giocarlo ragazzi Perché qualcuno Accennato al fatto Che essendo in prima persona No avrebbe potuto ricordare Un pochettino Pt ragazzi Questo famosissimo E benedetto pt Che poi è stato Purtroppo Abbandonato Non è mai stato preso E realizzato come progetto Gran peccato Perché la demo Era piaciuta A tutti Non a me Perché non l'avevo giocata Direttamente Ma l'avevo guardata Ed sarebbe uscito Un gran bel prodotto Ragazzi Peccato come andate a finire E quindi Qualcuno diceva È probabile Che qui Vogliano Prendere un pochettino La strada Di pt Che secondo La maggior parte Di videogiocatori È una strada Inarrivabile E quindi Bisognerebbe giocarlo Ragazzi Per Per capirlo Che dire Sono interdetta Nel senso Che mi sembra Parecchio inquietante Poi a maggior ragione Essendo in prima persona Corridoi Roba claustrofobica Figure che si muovono Tutte Così Non lo so Cioè Dal trailer Ragazzi Sembra Sembra figo Sembra figo Questo è negabile Non lo so Cioè dal trailer Mi ha fatto parecchia Angoscetta Parecchia angosciona Anzi Oserei dire All'idea di giocarlo Non è che faccio I salti di gioia Effettivamente Però sarebbe Sicuramente carino Potervelo portare qua Sul canale Sempre se Vi interessa Perché io Avevo fatto il sondaggio Su Instagram Se non mi seguite Andatemi a seguire Anche lì ragazzi E quindi ve lo richiedo Anche adesso Quindi per chi Non avesse visto Il sondaggio su Instagram Che ve ne pare All'idea Di Giocare Questo Short Message Quindi come sempre ragazzi Fatemi sapere I vostri pareri Qua sotto in commento Specialmente riguardo Ovviamente ragazzi Il trailer Di Silent Hill 2 Ci tengo veramente A sapere voi Che cosa ne pensate Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Updowsha a tutti ragazzi Da Giocherina Ciao 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 Ciao